buongiorno a tutti noi sempre dalla macchina faccio un po stacca stiamo andando per una nuova perventura vuoi già dire cosa glielo facciamo vedere dopo va bene allora finiamo il viaggio e poi vi facciamo vedere dove siamo ciao arrivate io faccio vedere adesso dove siamo a garda il garda niente niente stasera soggeneremo anche qua mi farò vedere la stanza quando sarà pronta siamo arrivati qua e gialleri capisce niente parla da sola così la nostra stanza vero quali no è la nostra vai qualcuno apra vediamo vediamo è visto guarda guarda anche la cassa forte devo trovare degli indizi ci deve essere qualcosa da qualche parte dovine all'insieme il primo numero è sempre lo zero ok poi senza obbligarti guarda la lampada di un calderabro alla foggia e conta con i candele che esso appoggia quante sono perfetto quindi 0 6 ora il nome della principessa dei capelli blu conta quante ne vedi poi tre 4 5 quindi 0 6 5 e infine guarda il dipinto che raffigura il castello quante sono le farfalle riesce a vederle somma l'orologio che conta sulla torre il castello e arriva il bello è scritto a mezzogiorno e 12 quindi 3 dentro guarda cosa c'è c'è un regalino cacca 4 dai forza 4 ecco il nostro secondo giorno a Gardaland ieri non vi abbiamo più fatto vedere perché vabbè eravamo io ero cotta nel senso che tanto io non ho potuto fare manco mezza giostra io ho fatto il cremino praticamente andava tutto di lato velocissimo sì lei è una pazzoide e voleva andare poi voleva fare una cacca da 140 esatto lei voleva fare tutti quelli tipo blu tornado così ma sì poi mi sono messa a piangere perché avevo paura e non è giusto attento che arriva la macchia e quindi niente abbiamo dormito nell'albergo abbiamo dormito benissimo io volevo quella di Peppa avevamo la castanza dei principesse ma Colli ha visto che le piaceva più quella di Peppa Pig e cena super e animazione ancora bellissima con anche uno spettacolo di magia Colli come era l'animazione? bella 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 e niente quindi secondo giorno ho detto che la prima volta non ho mai sentito quella canzone quindi non ho urlato è arrivato già l'autobus è la situazione a garden ma non lo sapevamo e quindi siamo super equipaggiati Colli è abituata quindi guardano sotto l'acqua secondo te è presente grazie a tutti